Musica Musica Ho sempre sognato facendo il cuoco e vivendo al centro del Mediterraneo un giorno di poterlo circunnavigare. Musica Recuperando dei gesti che ci appartengono, gesti che non sono più stati tramandati tra mare e figlio e dove il cuoco contemporaneo oggi ne è il custode. Perdere questo sapere significa impoverire tutta la filiera. Ecco perché nasce Numari, proprio da questa necessità, quella di dare il giusto valore al lavoro, sostenendo tutti i produttori dalla terra al mare. Il mare è il mio orto e i pescatori sono i contadini di quel raccolto che a me è legato alla stagionalità e ovviamente alla sostenibilità. Per cui dobbiamo riflettere su come fare diventare il Mediterraneo patrimonio di tutti. Quei territori simili, gesti uguali, mi fanno pensare che quei paesi non sono divisi dal Mediterraneo, sono terre unite dal mare. Musica 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 Musica